Franco Iachini rompe il silenzio stampa e si difende. Il noto imprenditore, presidente della Teramo Calcio, è indagato per reati che riguardano fatture false in debite compensazioni d'imposta. Rischia fino a sei anni di carcere e gli è stato sequestrato in via cautelare oltre un milione di euro, somma ritenuta a provento dell'evasione fiscale. Ieri, al termine della gara di Serie C, nonostante la sconfitta in casa del Teramo, Iachini si è mostrato sereno, forte del fatto che la commissione tributaria provinciale si si è a favore dell'imprenditore. La commissione tributaria provinciale di primo grado, cioè il giudizio, i giudici hanno stabilito che invece era assolutamente tutto corretto quello che abbiamo fatto e che le tesi che aveva avanzato l'agenzia delle entrate, riportate pedisseguamente dalla procura della Repubblica, sono state smentite da dei giudici. Tuttavia la commissione tributaria ha espresso giudizio sul contenzioso con l'agenzia delle entrate solamente per quanto concerne atti amministrativi, basandosi sulla documentazione disponibile. La commissione, nella sentenza emessa lo scorso 24 febbraio, ha ritenuto inconsistenti gli addebiti riscontrati dall'agenzia delle entrate nel 2017, condannando quest'ultima al pagamento di oltre 40.000 euro di spese processuali. Tuttavia il procedimento penale andrà avanti ugualmente e il denaro resterà sotto sequestro preventivo. Solo dopo la chiusura delle indagini si capirà se procura e guardia di finanza dispongono di nuovi elementi di prova contro Iachini, prove che però al momento sono sotto segreto istruttorio. È stato riferito che l'agenzia delle entrate si è sostituita alle scelte dell'imprenditore in una libera economia di mercato e quindi questo per me è stato un motivo di orgoglio. Il Teramo Calcio ad ogni modo non ha nulla a che fare con questa vicenda. Se non era il presidente del Teramo Calcio forse questa notizia non sarebbe uscita.